I carabinieri del nucleo operativo Radiomobile di Ivrea hanno arrestato un italiano di 56 anni, incensurato, abitante a Salassa, per detenzione ai fini di spaccio. In particolare, i carabinieri hanno fermato l'uomo durante un controllo alla sicurezza stradale e gli hanno trovato in auto un piccolo quantitativo di marijuana. L'attività è proseguita con una perquisizione a casa che ha permesso di sequestrare oltre 36 superoveri di hashish marijuana, anch'essa ben confezionata all'interno di sei sacchetti di cellophane. Lo spacciatore è stato collocato ai domiciliari. A Reano, invece, i carabinieri della compagnia di Rivoli, in collaborazione con i colleghi del nucleo cinofili, hanno denunciato un operario di 25 anni per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione di munizioni. La perquisizione a casa ha permesso di sequestrare 22 grammi circa di folli di marijuana, già essiccata e suddivisa in bustine di cellophane, 61 grammi di hashish, una pastiglia di ecstasi e diverso materiale per il confezionamento. I militari hanno anche sequestrato due proiettili, un coltello a saramanico della lunghezza di 17 centimetri con lama di centimetri 8. Grazie per la visione!